Primo, solidarietà umana a Marco Minniti. Voi direte, per la sicurezza, per... no. Perché mi sento un po' in colpa con lui. Mi ho detto, guarda Marco, abbiamo un collegio un po' strano, che dovevamo discutere di dove candidarsi, e noi abbiamo scelto di mettere alcune figure per dare la battaglia, diciamo, dare il senso della battaglia. Io sto a Firenze perché voglio fare casa per casa, sto facendo casa per casa, tra un po' qualcuno mi denuncia per stalking, sono le campanelli. Dice, chi è, Crozza? No, dice, no, Torrenzi. Però, abbiamo poi scelto alcune figure di riferimento, siccome sulle banche ci eravamo già divertiti di tutto quello che ci viene raccontato, abbiamo preso Padova, l'abbiamo messo a Siena. Abbiamo chiesto a tutti i rappresentanti del governo di metterci la faccia. Ho chiesto, Marco, avrei bisogno di una mano. C'è un collegio difficile, dove il nostro capo dei sindaci, il capo dei sindaci del PD, i responsabili di enti locali, Matteo Ricci, mi dice che rischiamo perché c'è un 5 Stelle molto forte. Dice, Matteo, disposizione, ditemi, il compagno Minnivi, uomo di partita, mi dice, fammi sapere, sono a disposizione. Dice, ma l'abbiamo bisogno di me, vado a Pesaro. E vado a Pesaro. Dopodiché vorrei scusarmi con lui, perché per l'appunto, proprio a Pesaro, la campagna contro questo candidato forte dei 5 Stelle, che ci avevano tutti detto, guarda, è un fedelissimo di Di Maio, è uno tosto, forte, se lui lo mando a Pesaro chiedendogli, mi raccomando, sulle marche, è importante, perché Pesaro è un collegio tradizionalmente sicuro, ma ci sono questi 5 Stelle, o non va a beccare per l'appunto uno dei collegi in cui non si sa qual è il candidato dei 5 Stelle? No, perché loro hanno candidato uno, che si chiama Cecconi, che era quello brillante, immaginate quegli altri, che ieri le Iene hanno dimostrato, diciamo, essere, tecnicamente parlando, un truffatore. Ma è un problema loro, a me non interessa. A me non interessa fare la polemica con i 5 Stelle sulla truffa che fanno. È un problema loro. O sul fatto che candidano uno scroccone come quello di Lazio 2, che si chiama Dessì, o sul fatto che candidano i massoni. Ci hanno detto per anni che noi eravamo la massoneria. I massoni le candidano loro. Tutto assolutamente legittimo. Solo che tutte le volte, ogni giorno Di Maio si alza e dice lui non rappresenta 5 Stelle. Scusa, come? Sulla scheda c'è scritto quel nome lì. Cioè, voi immaginate il povero Minniti, che avrà altri problemi, diciamo, di cui occuparsi, ma quando arriva a Pesaro, sulla scheda elettorale, i 5 Stelle dicono votiamo contro, ma non sanno qual è il candidato, perché sia sul proporzionale che sul collegio ci hanno questo, che Di Maio ha detto non essere il candidato dei 5 Stelle. Voi capite che non è in discussione la cosa in sé dei rimborsi. Quello è un problema loro. È in discussione il gioco stesso della democrazia. Ogni giorno si alza il capo dei 5 Stelle e dice quello non ci rappresenta. Io spero che arrivi presto il 4 marzo. Ce ne hanno uno al giorno, un paio al giorno. Perché se no, alla fine non si sa a chi corre per i 5 Stelle. E capite che è una cosa un po' impegnativa per Menni di fare il dibattito a Pesaro con si sa con chi. Lo farà con Ricci, gli farà fare la parte a Ricci del 5 Stelle. e farà diventerà